ma che bello questo countdown che non mette mai un'ansia devastante anzi ci fa sempre pensare a quanto è bello lo scorrere inesorabile del tempo ma non fa niente ciao a tutti come sempre siamo come sempre no ma come dalla volta scorsa che era sabato e oggi è giovedì e forse abbiamo ancora giorno ma questo ve lo dico dopo siamo alle presi con questo incredibile come dire in questo soggetto questa particolare cosa che si chiama armonia musicale che non è solo una roba pensata lì per scienziati col camice bianco i baffi lunghi e qualche monocchiale bensì per tutti noi che amiamo le tastiere le chitarre sintetizzatori e tutto quello che ci capita per le mani che emette suono se non fosse anche la voce dunque un piccolo riassunto della volta scorsa obbligatorio ossia la volta scorsa abbiamo fatto il vero start o se abbiamo accennato piano piano qua ci sono i compiti che vedremo dopo abbiamo accennato ragazzi a cosa all'armonia alla melodia no queste due definizioni che vanno sapute mettiamo caso che domani usciti di casa trovate una navicella spaziale un alieno esce e vi dice che cos'è la melodia minchia come come io dico no noi dobbiamo essere in grado di dirlo sia alle altre persone che magari non lo sanno sono solo curiose e dobbiamo sapere almeno cos'è la melodia bene la melodia riassunto velocissimo lo farò io perché so che voi avete scritto su un quaderno molteplici volte la melodia è l'arte di mettere i suoni uno dopo l'altro di mettere i suoni uno dopo l'altro quindi se io faccio do re mi mi re do è una melodia se io faccio ta 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 è una melodia perché metto i suoni in sequenza ossia uno dopo l'altro la melodia è l'arte di mettere i suoni uno dopo l'altro mentre invece l'armonia che è questa cosa che stiamo affrontando qua insieme di cui diventeremo chiaramente cintura nera o chierico di trentesimo livello minimo l'armonia è lo studio l'arte di mettere i suoni in contemporanea di metterli suoni insieme uno sotto l'altro di fatti la melodia la troviamo una notina nera dopo l'altra l'armonia una sotto l'altra per capirci l'armonia è l'accompagnamento di un brano gli accordi appunto sorry gli accordi mentre invece la melodia è appunto magari il tema di una canzone il cantante che fa qualche cosa abbiamo visto qualche eccezione diversa ma così è dunque c'è stato qualche dubbio su cos'è chi è uno strumento melodico che armonico beh qualunque strumento armonico normalmente anche melodico io posso fare una sola nota alla volta con la chitarra e crea una melodia posso fare gli accordi e crea un'armonia così anche per il pianoforte uno sintetizzatore monofonico fa una sola nota alla volta ma questo non vuol dire che non possiamo aprire tre tracce registrare prima una volta una cosa poi un'altra poi un'altra e creare una condizione polifonica una condizione armonica per tornare sul semplice perché mi sembra di che stia un po come dire un po' gasando è la tromba fa un suono alla volta quando abbiamo bisogno dell'accordo di fiati usiamo la sezione fiati quindi siccome un ripasso di questa cosa vado un po dritto melodia il cantante l'armonia l'accompagnamento che c'è sotto poi ci sono tante piccole soluzioni diverse procediamo dicendo chiaramente che subito dopo questo abbiamo parlato ma i suoni i suoni che noi utilizziamo bene noi suoniamo nel sistema musicale occidentale temperato fondamentalmente che cosa vuol dire vuol dire che noi abbiamo dodici suoni noi abbiamo dodici suoni quindi tra il do basso e il do acuto ci sono in tutto dodici suoni il do il do diesis che equivale a re bemolle il mi ok c'è il re il re diesis che equivale a mi bemolle mi sono incartato do do diesis re re diesis mi fa fa diesis sol sol diesis la la diesis si do insomma abbiamo visto che alcune note distante a loro un metro che noi diciamo un tono perché ormai siamo dei professori fortissimi e altre note che invece distante a loro mezzo metro sia un semitono nella scala di do che abbiamo affrontato in maniera diversa perché sì a noi c'è sempre detto sì la scala di do do re mi fa sola si dove certo è assolutamente quella la scala di quella di quando siamo piccoli ma in realtà quella è una scala maggiore di do chiaramente quando dici scala di do si sotto intende che è maggiore una scala maggiore cos'è una scala maggiore partiamo dalla definizione di scala per chi magari gli è sfuggita la cosa non era preparato oppure ha detto ma chissà cosa è una scala la scala una scala musicale è una sequenza di suoni con un ordine prestabilito cioè deve avere proprio un determinato ordine non può essere a caso di fatti per noi la scala è una scala con diverse distanze a volte un metro volte mezzo metro tra le note ok esempio la scala di do tono tono semitono tono 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 semitono tra il do e il re c'è un tono tra il re e il mi c'è un tono tra il mi e il fa c'è un semitono tra il fa e il sol c'è un tono tra il sol e il la c'è un tono tra il la e il si c'è un tono di nuovo e quindi di nuovo un semitono noi possiamo dire che prendiamo la scala di do ragazzi come punto di riferimento per fare tutte le altre scale maggiori difatti qualunque scala maggiore è determinata da questo sistema di distanze tono tono semitono tono 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 semitono e quindi oltre a diciamo melodia armonia abbiamo dato un'occhiata a cosa è la scala ma quanti suoni abbiamo in tutto sono 12 perché dove abbiamo una distanza di un metro a metà quindi mezzo metro indietro e mezzo metro avanti abbiamo un'altra nota tra il do e il re abbiamo il do diesis che equivale come suono a re bemolle suono omofono detto questo secondo me più o meno l'abbiamo centrata quindi a questo punto qui abbiamo fatto degli esercizi con le scale immagino che l'abbiamo fatti tutti quanti proprio lavorato giorno e notte che brutta questa luce che si infrange male che bello questo termine dunque andiamo a vedere un secondo che cosa succede io ho dato dei compiti un parolone assolutamente non sembra un po' esagerato però diciamo che ho suggerito una condizione diciamo di di studio no di inizio di studio quindi ho presentato queste tre scale fa mi e si bemolle entrambe scale cioè entrambe si perché sono tre quindi entrambe tutte scale chiaramente maggiori che erano da costruire basandosi su appunto il nostro glorioso tono tono semitono tono 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 semitono che nient'altro è che la scala maggiore partiamo dal fa vediamo se tutti l'abbiamo fatta insieme fa sol un tono sol la un tono la attenzione qua ci vuole un semitono la si bemolle la si bemolle ok perché ci vuole un mezzo tono qualcuno di voi lo dico subito parliamone perché chiaramente vi ho seguito in realtà spero ho fatto il possibile stia però credo di aver fatto il possibile per seguirvi soprattutto la notte fonda visto che io sono un bel guffetto simpatico quindi è più probabile che mi trovate dopo un certo orario che prima delle nove e mezza del mattino indi per cui cosa posso dirvi allora alcuni di voi hanno fatto fa sol un tono sol la un tono e poi un semitono la la diesis trovandosi poi dopo obbligatoriamente proprio in maniera temeraria a dover mettere dopo il la diesis per forza il do quindi gli si trovavano fa sol la la diesis do e no chiaramente non è che io non l'ho fatta apposta a quella rima sono tenuta un po' per oggi nel senso così almeno muovevate un po' il cervellino infatti qualcuno mi ha chiesto è molto importante che una scala abbia tutti i nomi delle note quindi con un la diesis al posto di si bemolle ragazzi tu dici ma miglia la stessa cosa è tutto uguale no non è tutto uguale una ceppa ragazzi perché vi ho detto che stiamo facendo sudoku stiamo imparando le basi per poi diventare tipo super saian e quindi la cosa più importante ora non è tanto fare gli errori ma usare il cervello per trovare la soluzione fa so la si bemolle mi fa si bemolle concettualmente ragazzi allora a livello di suono certo il si bemolle è come la diesis e suono omofono chi suona le tastiere sa che è lo stesso tasto ma concettualmente assolutamente no concettualmente un'altra cosa capito non so non si può fare no la scala deve avere assolutamente tutti i suoni di fatti qua abbiamo concluso semplicemente abbiamo scoperto che il fa aveva solo il si bemolle per assurdo la scala di fa ragazzi è pochissimo diverse da da caspita ragazzi sono una roba imbarazzante però una famiglia che non sento da tantissimo anzi sono solo da tanti mesi per via delle distanze quindi saluto mio cugino anche lui musicista quindi attenzione ragazzi solo si bemolle procediamo sulla scala di mi maggiore infame lo sanno tutti che il mi è cattivo in realtà il mi maggiore per i chitarristi è proprio gloria dolore perché corde a vuoto e tante cose incredibili bellissime quindi il mi maggiore ragazzi qua voglio capirci il mi maggiore è proprio il chitarrista con il mi ok corde a vuoto zanzara zanzana poi non ho detto che è cattivo il mi però perché che sono la chitarra mi raccomando abbiamo quindi mi poi a un tono dal mi cos'ho fa diesis a un tono dal fa diesis cos'ho sol diesis a un semitono ho il la a un tono ho il si a un tono ancora ho il do diesis a un tono ancora il re diesis e a confermarmi che sono fortissimo re diesis mi un semitono zio papero cioè capito così funziona quindi ecco che il midi comincia ad avere tante alterazioni suonerà ragazzi suona assolutamente come il do maggiore ma è traslato è un po più acuto la scala maggiore avrà sempre quel rapporto lì sonoro ok tra le note ma giustamente i suoni sono diversi allora spoileriamo chiaramente per chi non l'ha capito scala di do bene è l'unica ragazzi l'unica la scala di do è l'unica che non ha alterazioni quindi mettiamoci il cuore in pace e facciamo amicizia con i diesis e i bemolle al terza scala che abbiamo visto è la scala di si bemolle si bemolle do re mi bemolle perché tra re mi bemolle ho bisogno di un semitono ok fa sol la e di nuovo si bemolle sto andando un po' veloce ma in caso vi seguo anche a parte non è un problema perché mi sembra ovvio che a questo punto qua semmai c'è da prendere un po' un po' la mano con la cosa quindi è tutto voi dovreste sapere già fare voi sapete già fare le scale maggiori vi ha fregato solo qualcosina qualcosina era anche un pretesto quasi un altro esempio una scala maggiore può avere o solo diesis o solo bemolle raga se vi trovate se vi trovate un pezzo di diesis qua e un pezzo di bemolle la in una scala maggiore qualcosa è andato storto le scale maggiori hanno o solo i diesis e o solo i bemolle sicuro che tutti voi avete fatto questi esercizi lavorando con la foga di un kraken non possiamo fare altro che procedere ai compiti dell'altra volta che vi avevo chiesto tre tipi di salti di terza e di quinta e dobbiamo riassumere perché come vi ho detto non lasciamo indietro nessuno se ci si fa meglio se non ci si fa lo aiutiamo ancora quindi non datevi per vinti anche se mi sembra che fin qua raga è più o meno complesso come giocare a monopoli un poco di più ma se ti ci metti un'oretta eh beh gli intervalli fastidiosi gli intervalli parliamo degli intervalli velocemente salto di terza e salto di quinta abbiamo visto due tipi di intervalli l'intervallo di terza e l'intervallo di quinta l'intervallo di terza è la distanza fra calma l'intervallo è la distanza fra due note l'intervallo di terza è la distanza quindi fra la prima nota e la terza facciamo vincere sempre e proprio seguiamo assolutamente le dita quindi esempio do se la prima è il do è do re mi la terza è il mi allora c'è qualcuno che si è trovato un po' incartato anche qua raga il nome della nota tu mi puoi dire adri ma minchia cioè ma no la terza si chiama mi la terza del do si chiama mi questo perché perché cosa è successo che abbiamo visto che l'intervallo di terza è in due maniere può essere di terza maggiore o di terza minore quando è di terza maggiore è di terza maggiore quando dista due toni quindi siccome siamo bravissime persone scriviamolo di nuovo qui chiaramente in versione scrivo int che vuol dire intervallo di terza può essere maggiore esempio do mi perché dista due toni minore la do appunto perché dista un tono e mezzo ok ok su questa base qua vi ho detto di costruirne tre di fare un pochettino voi come preferite ma farli quindi intervallo di terza può essere o maggiore o minore è maggiore quando la prima e la terza di sono due toni esempio ragazzi vi faccio un esempio do la terza di do è mi la terza maggiore di do però adesso vi faccio questo un attimo questo trucchetto la terza maggiore di do il mi la terza maggiore di do diesis cos'è alcuni di voi si sono incartati dicendo vabbè ma guarda che piccio scusate ho visto uno dopo la terza si può mettere la quarta se parliamo di bi remedie sì assolutamente grazie di caro parenti ho trovato il mio master ingegneri grazie allora dormi dormi è una terza maggiore do diesis mi diesis non do diesis fa perché vince ragazzi vincono le dita cioè tu dici mia do diesis due toni vado al fa no vai al mi diesis abbiamo distrutto finalmente non vedevo l'ora anche perché qualcuno aveva scritto sì finalmente siamo arrivati lì esatto esiste il mi diesis già ed esiste pure il fa bemolle pure il si diesis certo perché sono le alterazioni di cui ora parliamo ma una terza con le dita do re mi la terza maggiore di do diesis è mi diesis la terza maggiore di do con 5 diesis è mi con 5 diesis ok terza minore invece è un la do dunque qua vedo qualcuno che dice ho avuto un problema con l'intervallo di quinta lo vediamo dopo ed è questo concetto che ho appena detto il problema dario mi do è una sesta mi do è una sesta dario mi ha appena detto ma sulla quinta io ho fatto mi do mi do è guarda tre dita mi fa so la si do è la sesta e lì che si è incartato terza minore appunto di terza minore concetto uguale un tono e mezzo la do ok andiamo avanti subito la quinta perché la quinta è diversa l'intervallo di quinta cioè non è maggiore o minore ma l'intervallo di quinta può essere giusto aumentato e diminuito quando è giusto ragazzi sono che scrivo tono 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 semitono aumentato 4 è diminuito 3 ragazzi ripassone veloce dunque guardate bene intervallo di quinta giusto è tre toni e un semitono quindi risolviamo subito dario che è che ha proprio posto il problema lui dice ho avuto un problema con l'intervallo di quinta lui ha preso il mi e facendo il quinta aumentato che sono quattro toni si è trovato invece a dire ma no il si diesis no devi mettere si diesis a dario dobbiamo avere coraggio deve essere sempre per forza il numero delle dita raga sempre l'intervallo di quinta facciamo finta intervallo di quinta del sol sol la si do re e re che poi si è aumentato diminuito eccetera ma si chiamerà comunque re l'intervallo di quinta giusta del sol di quinta giusta è re aumentato vabbè sarà re diesis è diminuito sarà re bemolle ma mi raccomando dario se poi dopo mi dai solamente un yes ok così sono contento mi raccomando mi do ad esempio cercando una quinta è sbagliato si raga esiste il si diesis l'intervallo di quinta del mi è si aumentato è mi si diesis queste incredibili cose che accadono dunque mi sembra che abbiamo fatto un buon ripasso nel senso magari un po più come dire scellerato un po tipo di corso un po come dire ma dove stiamo andando insomma una cosa molto più affrettata ma abbiamo visto tutto già ok bravo dario ho scoperto si diesis esatto di fatti andiamo un attimo a toccare un secondo per chi ha studiato chi non ha studiato ci segua lo stesso non perdetevi perché adesso è diventato cioè da adesso per assoluto far ridere ma da adesso si può si può annusare un po l'idea della musica non che non si può fare senza queste cose però tra poco parliamo di quelle che poi sono gli accordi quelle cose che ascoltiamo sempre no non so come dirti quella spezia che c'è sempre però si sono ok molto bene due trick e track subito ok esiste il si diesis esiste il do bemolle anche se le note sono vicine esiste il fa bemolle è diverso dire mi o fa bemolle il suono è uguale concettualmente diverso molto importante ok questa è altra cosa se io faccio una scala maggiore non posso avere sia i diesis che i bemolli e non posso saltarmi i nomi delle note cioè non posso fare do re mi mi diesis sol no è do re mi fa dovrebbe esserci tutti i nomi delle note ok proprio una roba che è la base perché sennò ci andiamo a incartare qua avremmo potuto scrivere la diesis poi ci troveremo qua un do la la diesis do non si può si arrabbierebbero tutti spaccherebbero i vetri e andrebbero in giro nudi con delle trombe quindi assolutamente no dobbiamo avere tutti i nomi delle note direi che possiamo finalmente oltretutto procedere con con le nuove novità dunque allora siamo arrivati ragazzi a toccare un attimo ma al volo perché è una cosa molto facile la prendiamo proprio da barra proprio d'età brutta poi magari quando sarà il momento ci diamo un'occhiata andiamo a vedere diesis e bemolle al volo diesis e bemolle al volo dunque un tecnico che va a sbloccare mia camera no dunque diesis e bemolle al volo ragazzi diesis e bemolle bene il diesis aumenta di stato un secondo seguiamo anche giuglielmo dice chiedo venia quindi in ogni scala comunque essa sia devono in ogni scala devono esserci raga tutti i nomi delle note in ogni scala devono esserci tutti i nomi delle note la prima nota occhio perché rivelazione si chiama tonica tonica la prima nota la più nota fondamentale di tante cose si chiamerà tonica segniamoci come si chiama la nota importante tonica e in ogni scala ci deve essere tutti i nomi delle note sempre poi a spoilerare in una scala maggiore si può avere solo o i diesis o i bemolle a questo punto qui andiamo un secondo a segnarci cosa accade da queste parti qua ossia alterazioni le alterazioni chiaramente ragazzi alterazioni musicali perché siamo persone stupende sono il diesis e il bemolle il diesis è più un semitono il bemolle è meno un semitono quindi mentre vado a sbloccare anche quella camera vedete il diesis equivale a un semitono ok mentre invece è però in su quindi con il diesis cosa abbiamo con il diesis abbiamo che la nota diventa più acuta la nota col diesis diventa più acuta adesso vi faccio un gioco se io ti dico do doppio diesis si esiste il doppio diesis ok il doppio diesis esiste tu mi dici ma perché do doppio diesis vuol dire re suona come re ma non vuol dire re certo adesso se beccate qualche piccione a meno che non siete nella musica d'avanguardia degli anni 50 degli anni 50 che comunque più o meno ha fallito nonostante niente a dire ho seguita studiata più bella insomma in qualche maniera fu un movimento complesso come sempre succede quando abbiamo a che fare con la nuova tecnologia soprattutto una un fantasma quasi cioè suoni che uscivano senza che nessuno suonava ragazzi non era mica da poco poi si erano evolute tantissime altre condizioni e situazioni quindi che dire beh non possiamo fare altro che gasarci con i diesis e i bemolli i diesis e i bemolli possono essere anche doppi posso avere il doppio diesis o il doppio bemolle ok altra cosa proprio per essere questo segno qui che è il b quadro andrebbe a cancellare queste alterazioni però per assurdo qua siamo già siamo già in in un cocktail bar mentre noi siamo proprio al bar da bianchini quindi lasciamo addirittura starebbe quadro quando noi sappiamo che è diesis è un semitono in più c'è il doppio diesis si molto bene quindi direi a questo punto dopo aver dato un'occhiata alle alterazioni di arrivare ragazzi veramente al core che non è ma balla è il core proprio la parte grossa ragazzi ma grossa della comprensione del tutto di quello che viene perché una volta che parliamo di scala diciamo intervalli con quest'altra cosa che diciamo siamo a un passo verso il furibondo mondo ostile ma meraviglioso della tonalità quindi andiamo a vedere un secondo prima cosa da fare dobbiamo parlare di triadi mentre parlo di triadi cancello questo perché abbiamo capito tutti quanti di tutto di più allora mi è stato chiesto anche cioè mi è stato suggerito di usare delle slide raga però a me il tempo della lavagna mi piace mi fa in maniera che io riesca a mantenere una lucidità adatta per sé per per esporre con un minimo di come dire di ricerca dell'attenzione mentre con le slide o siamo in una classe vera oppure finisce che non si capisce che vado a 100 all'ora o che comunque rimane molto freddo il confronto fra di noi quindi chiaramente insisto per la lavagna allora cos'è la triade ok ragazzi ora siamo arrivati chiaramente con una definizione veramente da livello Manhattan allora cos'è un accordo ragazzi scrivetelo per favore scrivete cos'è un accordo è un accordo è un insieme di suoni generati per terza minchia meno male che ho studiato la terza se no che cazzo ci capiva qualcosa capito un insieme di suoni generati per terza allora c'è un po di singhiozzo scusate come si può dire di meglio esagero l'accordo è un insieme di minimo tre note generati per salti di terza queste minimo tre note si chiama triade quindi adesso quando sentite uno che dice triade stanno sta facendo altro che parlare della più facile costruzione di un accordo due note suonate insieme non bastano essere un accordo raga sarà un bicordo sarà solo un bicordo un piccolo cucciolo di accordo ma non lo è l'accordo deve essere il minimo di tre note dicesi triade ripeto l'ultima volta proprio perché devo proprio siringarvelo nel cervelletto l'accordo è un insieme di minimo tre note organizzato per salti per salti di terza dicesi triade perché la triade tre note è il minimo indispensabile per avere una condizione di accordo ci saranno altre ragazzi inutile dirvi che ci saranno chissà quante altre modi di dirvela altri che diranno guarda che non è vero perché c'è questo accordo qua c'è questo accordo si è pieno di eccezioni te ne devi sbattere i coglioni devi seguire me un secondo che se no non ne usciamo più fidatevi che è così adesso poi dopo sarà una roba incredibile però l'accordo minimo tre suoni a questo punto qua interessante perché ho detto per salti di terza ho proprio detto per salti di terza quindi dobbiamo un attimo comprendere cosa sta succedendo che poi queste triadi che costruiscono tutta l'architettura musicale no che conosciamo tutto la corcia nel senso con le triadi ragazzi si vincono i gremi si basano su solo quattro famiglie wow incredibile mio dio si ragazzi sono solo quattro famiglie e noi andiamo a vederle tutte piano piano e mi serve un'attenzione livello proprio over ragazzi è proprio importantissima questa lezione piuttosto ve la rifaccio in privato a caso gratis a tutto quello che vuoi ma chi non capisce che l'hai preso bene deve seguirla poi questa in caso se non l'ha capita dunque triadi tre famiglie la prima famiglia di triadi è la triade maggiore ok che la mettiamo qua la triade maggiore un secondo solo arrivo e raga da adesso in poi finalmente faremo in qualche maniera anche degli arpeggiatori non per forza la triade maggiore è una triade fatta da due salti di terza perché abbiamo detto ragazzi parliamoci chiaro abbiamo solo il minimo di un accordo e la triade l'accordo minimo di tre note quando tu schiacci due tasti alla cazzo insieme non è neanche un accordo ok abbiamo tre note in questo caso e cos'è che va a caratterizzare a identificare che questa è una triade maggiore il primo salto di terza allora la tonica identifichiamo subito la tonica coloriamola la tonica è la nota principale che dà il nome a quello che sta accadendo ok questo è un accordo di do maggiore una triade di do maggiore vuol dire che è un accordo di do maggiore è il minimo la base quindi do ok mi perché do mi perché per avere una triade maggiore devo avere un salto di terza maggiore e un salto di terza minore un salto di terza maggiore e poi un salto di terza minore quindi facile facile dal do un salto di terza maggiore sono due toni e vado al mi dal mi un salto di terza minore e vado al sol questo è un accordo maggiore come si fa l'accordo maggiore? così non c'è altra maggiore si fa così prendi una tonica qualunque fottuta sia e poi gli fai un salto di terza maggiore e un salto di terza minore quello sarà un accordo maggiore la forma minimale perché un accordo può avere molte note può avere 6 7 note addirittura ma la triade maggiore l'accordo maggiore si basa ed è veramente gravemente fondato su questa condizione qua ok non vado in dettagli accademici quindi qualcuno potrà dire mia la dominante la qui non cazzo do mi sol terza maggiore terza minore vado avanti perché assolutamente siamo a un quarto della bellezza di tutta questa situazione qui dunque andiamo a vedere cosa succede con la triade minore ragazzi la triade minore sarebbe bello intanto che voi dite ma come si fa? come la faccio la triade minore? adesso voglio pensarci voglio farcela da solo la triade minore devo riuscirci io vai provateci esplorate ed ecco che mi trovo nella triade minore questa lezione secondo guarda non è una balla io questa lezione bisognerebbe fare a tre volte di seguito proprio a ultranza in loop cioè la terza minore illuminata male ma con un drago che non ti saresti aspettato ok che sputa fuoco lo metto qua ok questa terza minore lo vedete? la do terza minore do mi terza maggiore prima una terza minore poi una terza maggiore il contrario è il contrario dell'accordo maggiore mentre nell'accordo maggiore avevi tono 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 semitono qua al contrario è il tono semitono tono tono cosa cosa ci porta ragazzi? cerchiamo anche un attimo di usare anche noi no? clic e crac ci porta a capire che la quinta è distante uguale infatti se notate ragazzi in entrambe la situazione do sol e la mi la quinta dista identica dista comunque tre toni e mezzo zio papero ok? allora raga è facilissimo fa veramente da sei minuti che insisto e continuo è veramente facile terza maggiore e terza minore faccio l'accordo maggiore terza minore e terza maggiore faccio l'accordo minore ok? differenze particolari beh minchia butta l'accordo maggiore e nisha la la tutto happy I wanna get high butti l'accordo minore un momento capito momento triste più lugubre eccetera ok? terza maggiore e terza minore andiamo avanti chiaramente ci saranno ancora altre due famiglie due famiglie assolutamente non possiamo non dire che c'è quella aumentata quindi abbiamo una triade aumentata la triade aumentata sai quella cosa che mi ha sempre fatto paura uno arrivava da voi quando diceva aumentata sembrava che fosse sceso Gesù Cristo Gesù Cristo in cannottiera che non è mia però faccio divertire lo stesso e invece no è aumentata una triade aumentata beh tu da stasera sai fare la triade aumentata perché te l'ha detto questo qua che oggi minchia giornata proprio meno male c'è stata magna guarda allora dunque una aumentata adesso ve la faccio un po' bastarda eccolo qua ve la faccio in sol sol si re diesis quindi abbiamo la prima terza ragazzi maggiore e la seconda terza siccome dobbiamo avere aumentata fa riferimento alla quinta quindi la prima terza è maggiore e la seconda terza pure madonna che cazzo c'è ne guarda qua vedi che ti trovi sol si re diesis abbiamo di nuovo ragazzi un sol si di due toni sol si di due toni ok e si re diesis di due toni terza maggiore terza maggiore quindi andiamo a vedere cosa è successo l'accordo maggiore si fa con una terza maggiore e una terza minore l'accordo minore si fa con una terza minore e una terza maggiore l'accordo aumentato si fa con due terze maggiori adesso vorrei proprio che sia un po' come dire no io provo a lanciarvi ma come sarà la triade diminuita e l'unica combinazione che manca se l'unica combinazione che manca ragazzi dove la faccio in là chiaramente abbiamo una terza minore e un'altra terza minore questo specchietto è importantissimo fotografatelo fate tutto quello che serve abbiamo le quattro famiglie delle triadi questo è praticamente poco prima del fosso di Elm c'è questo un passaggio importantissimo che direi che è fondamentale per tutto quello che riguarda la costruzione della costruzione armonica di un brano veramente è l'inizio ma l'accordo maggiore si fa con una terza maggiore e una terza minore l'accordo minore si fa al contrario con una terza minore e una terza maggiore che ci fa riflettere ci dice minchia ma cioè praticamente ci fa riflettere perché Do e Sol è una quinta giusta l'accordo di Do maggiore è Do Mi Sol l'accordo di Do minore è Do Mi bemolle Sol vedi che la quinta rimane uguale da lì esce il metal il power chord eccetera beh sta qui lo butta da qua poi ci sarà un motivo un momento come i fermerò aumentata quindi due toni più due toni diminuita un tono e mezzo più un tono e mezzo due terze minori accordo maggiore terza maggiore terza minore accordo minore terza minore terza maggiore accordo diminuito terza minore terza minore accordo aumentato terza aumentata terza aumentata questo è il momento dove io potrei continuare a parlare così ma chi veramente ci sta seguendo vuole anche solo tentare e invece chi anche deve tentare perché sennò è proprio antipatico dobbiamo un attimo buttarci su questa cosa io vorrei dunque questo qui è un compito così al volo che lo facciamo adesso ok vorrei dunque un do aumentato perché siamo troppo forti poi vorrei un sol minore sol minore raga lo potete trovare con un meno o con la scritta min o con la m piccola dovremmo diventare un po' elastici ragazzi sulle notazioni che troviamo in giro molto spesso sol col meno è minore sol senza niente è maggiore quindi un bambino un sol minore poi facciamo un la se non c'è scritto nulla vuol dire la maggiore ok e poi un poverissimo facciamola facile si è diminuito allora un attimo solo ecco qua non guardate la parte sotto se volete vi faccio un attimo il taglio qua e siamo qua ok il compito che dobbiamo fare adesso in tempo reale perché sennò non avrebbe senso perché vi arriverebbe solo una pioggia di informazioni veramente esagerata almeno un attimo dove ci fermiamo e vediamo cosa succede è costruire queste triadi vuol dire che stiamo costruendo un do aumentato che è un accordo fatto con tre note perché sono triadi quindi hanno solo tre note noi sappiamo fare solo le triadi finora ok quindi abbiamo il do aumentato il sol minore il la e il si diminuito vorrei sapere i risultati di questi adesso è normale che non so se ce la faccio a fare qua in tempo reale con la chat eccetera però dobbiamo prenderci veramente un attimo il tempo e farlo che ragazzi ci sono cinque minuti e li dedichiamo perché è importante e poi riprendo a rappare come un pazzo su altra roba quindi ragazzi pronti voglio vedere quattro triadi scritte bene e poi vi dico la soluzione ma che cose splendide questi countdown la prima cosa che devo dire bravissimo Alex Kidd grande produzione fu un momento epico Siga Master System raga il 2 costava 99.000 lire veramente l'hanno comprato tutti e quelli poveri avevano solo Alex Kidd quindi l'hanno giocato in 38 maniere sotto sopra sopra sotto e super Alex Kidd bravo ma quindi andiamo avanti dunque vediamo un secondo cos'è successo qualcuno dice quando fai le pentatoniche ciao Riccardo fra un po' perché le pentatoniche le vorrei fare quando si faranno le pentatoniche le faremo decentemente perché normalmente le pentatoniche rappresentano con le dita 1,4,1,3,1,3 sulla chitarra le atteggeremo quando sarà in una maniera diversa allora dunque ragazzi siamo qua e andiamo a vedere il risultato del nostro test così che voi potete confrontarvi con voi stessi ma siamo in real time troppo forti do aumentato la triade aumentata si costruisce scegliendo una tonica in questo caso il do ragazzi nota fondamentale ossia la tonica e la prima terza il primo salto di terza deve essere maggiore quindi parliamoci chiaro raga se il do è la tonica la terza deve essere per forza la prima terza deve essere per forza il mi do è il mi ok di fatti abbiamo un mi da do a mi ci sono due toni e poi siccome è aumentato la terza ha bisogno di prima due toni e poi ancora due toni ed eccoci a sol diesis perché dal mi due toni mi trovo al sol diesis quindi presa il do come tonica il primo salto di terza è maggiore do mi perché tono tono tra il do è un tono tra il mio un tono e poi il secondo salto di terza che è mi sol diesis contatelo come volete potete anche contare ragazzi quattro semitoni invece che due toni ma la distanza è sempre quella la distanza è di due metri se voi contate a mezzo metro a centimetro fate voi quindi risultato do mi sol diesis sol minore sol minore dunque sol minore grande classico cosa vuol dire cosa sto dicendo dunque sol minore tonica sol tonica sol dunque in questo caso abbiamo tono e mezzo due toni l'accordo minore si costruisce con tono e mezzo iniziale e due toni dopo quindi se io ho sol come tonica la prima terza è un si bemolle ricordatevi che contano sempre le dita mannaggia sol a si punto ok quindi però è un si bemolle tono e mezzo e poi si bemolle re perché qua abbiamo bisogno di una terza maggiore accordo minore una terza minore e una terza maggiore è il contrario invece dell'accordo maggiore ad esempio il la ragazzi la do diesis perché? perché ho bisogno di due toni due toni toni sintetizzatoni e poi successivamente un tono e mezzo quindi se ho il la abbiamo la do diesis che è due toni ok e poi do diesis mi che è un tono e mezzo ed ecco che abbiamo l'accordo maggiore questa favola magica che ci fa stare felici l'accordo maggiore cioè proprio leggerezza capito? spiagge andiamo avanti ragazzi così e troviamo il quarto esercizio che era fammi un si diminuito ok e allora si diminuito la triade diminuita l'accordo diminuito proprio a livello base abbiamo si re un tono e mezzo e di nuovo re fa un tono e mezzo quindi riassunto dell'esercizio e poi vi riassumo di nuovo un attimo la questione delle triadi e vi do qualche app in più chiaramente l'esercizio era do aumentato do mi sol diesis sol minore ragazzi sol si bemolle re la maggiore la do diesis mi si diminuito si re fa questi questi era questo era l'enigma risolto del aiuto quanto sei grato che momento brutto questo era l'enigma risolto degli esercizi quindi chi di voi è riuscito a farli qua quant'è buona una bella birra calda dell'ins terrificante ok qua siamo sulle pentatoniche lasciamo così quindi direi di allora vado avanti un secondo e concludo il discorso triadi allora dopo aver fatto un riassunto importante e coraggioso i nostri eroi di Sint Caffè gli amici di 7FK e tutta la truppa strana che fa cose con la musica cosa ha fatto ha detto ma come sono fatti gli accordi ma chi è l'accordo ma ci tofonate un accordo ma come cazzo rispondo l'accordo è un insieme di minimo tre note organizzati per salte di terza tre note dicesi triade come possiamo notare con due salte di terza abbiamo un accordo che può essere l'accordo può essere di quattro famiglie raga tutta la musica è basata su quattro famiglie di accordi pensa a te è una roba che nemmeno sull'isola di Pasqua potevamo trovarla simile solo quattro famiglie chissà che casino invece no a noi non risulta altro che più semplice e siamo andati a vedere terza maggiore l'accordo maggiore è fatto con un salto di terza maggiore è un salto di terza minore inutile dire ragazzi che a questo punto devo darvi un tonica questa prima nota che io scrivo male qua uno lo vedete sì questa è la tonica è il nome dell'accordo è la nota che dà il nome all'accordo qua che è un mi che ho cancellato involontariamente un pelo è la sua terza in effetti qua c'è una terza maggiore ma lui è la sua terza il mi adesso quando metto un'altra terza è vero ma il sol diventa la sua quinta prima terza e quinta sono le note che formano gli accordi la prima e la terza e la quinta si rapportano tra loro per salti di terza due fottutissimi salti di terza fanno un accordo quando voi avete i fiati che pompano e siete un po' grezzotti a uno metti la prima l'altro la terza e l'altro la quinta è l'accordo pieno capito? cioè prima terza e quinta è proprio l'accordo stiamo in live minchia che figata cantiamo da paura però nel ritornello non stiamo dando sta pumpa ok allora mi dai la terza cuta e il corista ti dà sta terza che fai e cazzo ha fatto la terza e suona tutto bene poi arriva il tipo che fa la quinta e speriamo che la faccia bene perché la quinta quando ti suona è orrenda invece in altre situazioni è proprio più facile prima terza e quinta è il classico accordo prima terza e quinta no? ogni volta che salta un tasto bianco è prima terza e quinta prima terza e quinta sono la cosa che fanno che diventano accordi si forma la prima la terza e la quinta è la base di una triade ed è sono fatti con due salti di terza triade maggiore prima terza e quinta notiamo che la quinta dista a tre toni e mezzo esattamente come nel modo minore questo perché la quinta è giusta se vogliamo andare a vederla così aspetta ti ricordi che accordo è quello finale di Dario però anche tu mi stai chiedendo un accordo di The End dei Beatles cioè ma che non lo so ma sono sicuro che lo scopriremo insieme in un'ora però che domanda strana ma sono curioso ma non ci posso andare adesso non ci voglio di mincarto comunque dopo vado a vedere che accordo è dunque maggiore due toni un tono e mezzo terza maggiore terza minore l'accordo è maggiore punto terza minore terza maggiore abbiamo una prima una terza e la quinta la prima e la quinta sono distanti uguali perché l'unica cosa che abbiamo fatto è spostare la terza e questo è il momento proprio importante uno gli accordi aumentati li vedrete tipo ma non lo so cioè li puoi usare ma rarissimamente troverai accordi aumentati se sei nel pop è perché sei proprio inciampato sulla tastiera e hai schiacciato tutti i tasti se no l'accordo è aumentato non lo vedi capito se vedi un accordo aumentato e uno fa pop è successo qualcosa non lo so controlla l'olio non succede capito se invece trovi un accordo diminuito nel pop già wow che delicatezza può esserci l'accordo diminuito ad esempio nel pop ma normalmente suoniamo la musica generica la musica pop la musica popolare e tante altre per non parlare insomma di mille risvolti che ha avuto la musica folk è semplicemente con gli accordi maggiori e minori poi andremo a vedere però come si incastrano fra tutti ok però Federico Enzo dice hai quasi finito di spiegare il reg sì con i due accordi maggiori e minori abbiamo risotto il reg è vero assolutamente d'altronde il tastierista sa perfettamente quel momento in levare che non finisce mai come il chitarrista tranne quando ha la fortuna di fare il palm muto oh mio Dio quindi la maggior parte troverà l'accordo maggiore e l'accordo minore perché parliamo così ragazzi perché questo è un corso di armonia da bar per smanettoni livello pop poi andremo a minchiaire guarda le schiappe in giro che non hanno capito fortissimi saremo il top baccaglieremo in conservatorio non lo sapranno neanche loro però di base accordo maggiore la prima e la quinta sono la stessa distanza dell'accordo minore quello che va a cambiare è la posizione della terza se la terza sta a due toni l'accordo è maggiore se la terza sta a un tono e mezzo e la quinta è giusta e l'accordo è minore questa maniera di vedere la cosa non mi piace tanto ma aiuta spesso a chi ha preso un altro livello di pensiero un'altra condizione di io direi proprio di logica la mia logica preferita invece che ci tengo tanto e vorrei che voi la prendeste di faccia credendomi come fosse il massimo è ma proprio come non ce ne fosse è terza maggiore terza minore abbiamo l'accordo maggiore terza minore terza maggiore ma non lo so se mi sono incartato perché sono andato a toccare la telecamera fottutissima Eva mannaggia terza maggiore terza minore accordo maggiore terza minore terza maggiore accordo minore aumentata a due toni due toni diminuita insomma talmente ci sto ripetendo sopra che non ci sto capendo una minchia quindi per fare un po' però la situazione per capire la situazione gli accordi sono fatte di minimo tre note si organizzano per salti di terza la combinazione fra terza maggiore terza minore genera quattro famiglie gli accordi in tutto sono quattro famiglie l'accordo maggiore e l'accordo minore chiaramente più sdoganati più quello di cui siamo noi abituati capito è proprio il concetto che normalmente ci porta ad ascoltare la radio poi avremo un accordo più complesso aumentato diminuito notiamo ragazzi che è nell'accordo aumentato e nell'accordo diminuito che è la cosa che va cambiare tutto cioè nel senso la questione dove cioè l'accordo aumentato non cioè non 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 lavora con le forze con le tenebre non so come dirvi l'accordo aumentato e l'accordo diminuito sono più spigolosi l'accordo aumentato e l'accordo diminuito sono più situazionali ma esistono quattro fottutissime treadi quattro famiglie di accordi maggiori e minori più diffuse diminuito beh ogni tanto lo becchi sei quello che esce ogni tanto ma per più sta casa l'ha aumentato se lo becchi è perché sei nella merda ok ragazzi ci siamo più o meno per favore quindi tra un accordo maggiore e minore cambia solo la terza se la terza è maggiore l'accordo è maggiore è esattamente bravo Guglielmo la distanza prima quinta si chiama giusta ed è sempre tre toni e mezzo e la terza minore che se è più vicino l'accordo si chiama minore se è più lontano si chiama maggiore inutile dirvi ragazzi che se voi prendete ora una triade ok e fate do maggiore do mi sol do maggiore do mi sol perché dobbiamo collegare fottutamente ragazzi perché questa roba io ve l'ho detto è sudoku è semplicemente sudoku cioè non c'è ancora arte l'arte la mettiamo quando facciamo un collegamento con le situazioni con la sensazione psicoacustica e con un confronto con il genere che stiamo affrontando assolutamente al momento è proprio concetto oltretutto fottutamente logico un cruciverbo potrebbe avere più arte in questo momento quindi assolutamente non può succedere altro che se io metto un accordo maggiore sentirò quest'area larga quest'area maggiore quasi un po' stupidina ok quasi fra martino bene quello è un accordo maggiore ti dà quella sensazione di maggiore apertura che bello è finito tutto siamo al mare porca puttana mentre invece l'accordo minore ti fa più tipo l'accordo minore è più è più tipo inizio marzo capito già adesso è minore però minchia l'accordo minore ti fa tipo un po' di chiusura dall'altra parte però l'accordo minore è anche un suo fascino quasi quel fascino del nostalgico che poi è arricchito con altri pennarelli che useremo l'accordo minore diventerà qualcosa di molto molto delicato non per forza fa quel momento come dire così oppressivo com'è io devo esagerarvi le sensazioni per farvi capire cosa succede l'accordo diminuito è tipo la prima volta che quando vi hanno detto raga non si esce più di casa minchia quello era proprio fottutamente diminuito capito quello era un accordo diminuito totale l'accordo aumentato io lo descrivo in due maniere momento Walt Disney psichedelico fiori strani paperino che va in giro che minchia manco Woodstock manco fossimo al Tomorrowland ma anche l'accordo maggiore enigma enigmatico una cosa strana poi oltretutto quando lo usi sai già che è lui io cerco solo di darvi dei concetti del cazzo che vi colleghino fra quello di cui stiamo parlando e quello che stiamo trattando cioè stiamo parlando di una sensazione ma trattando di armonia musicale oltretutto vi garantisco che questa è la maniera più diretta che ho io e credo che sia difficile trovarla più da bar o poi se la troviamo più da bar ottimo ma l'accordo maggiore allegro l'accordo minore triste l'accordo diminuito è un po' più triste ma non si capisce l'accordo aumentato è tipo enigmatico gli accordi sono almeno tre note suonate insieme prima terza e quinta sono due salti di terza la loro combinazione fa capire di quale famiglia parliamo sono solo quattro famiglie se ci pensi è molto facile quello che abbiamo fatto oggi ragazzi se vi mettete lì dopo sta mia checcherata in 30 minuti dovreste averlo perlomeno capito percepito o comunque sia per la vera che cadono siamo arrivati quindi al riassunto totale proprio mega galattico lo farò in maniera veloce dunque abbiamo la melodia è l'arte di mettere i suoni una dopo l'altra in sequenza l'armonia è l'arte di mettere i suoni uno sotto l'alto gli accordi sono l'armonia ad esempio la melodia è do re mi mi re do ok ok quanti suoni abbiamo nel sistema occidentale temperato sia nel nostro normale sistema musicale quanti suoni abbiamo 12 è il motivo per cui quando vuoi suonare un brano un'ottava sopra invece che spostare le mani schiacci più 12 cazzo di bodda lo puoi fare tu tastierista quindi fai più 12 e arrivi all'ottava successiva cos'è una scala beh perché tutti dicono mi le scale no la scala è un ordine prestabilito è una sequenza di note con un ordine prestabilito ad esempio la scala maggiore ha un determinato ordine che è tono tono semitono tono 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 semitono molto bene quello è l'ordine della scala maggiore ora sapete fare tutte le scale maggiore del mondo e siete più forti di quelli che saranno fare le scale maggiore solo in tre cose noi sappiamo fare tutte esempio la scala di do che conosciamo da piccoli è do re mi fa sulla si do tono tono semitono tono 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 semitono ma la scala di mi maggiore che l'abbiamo vista nei compiti mi fa diesis sol diesis la si do diesis re diesis mi e di nuovo tono tono semitono tono tono semitono la rete la relazione tra i suoni è sempre quella a quel punto a quel punto lì ci siamo portati avanti terza minore terza maggiore perché l'intervallo di terza può essere di due tipi quando è maggiore l'intervallo di terza è maggiore quando dista due toni occhio se la mia tonica ossia nota fondamentale è la regina di tutte quella che dà il nome è do do re mi devo sempre contare sulle dita la terza sarà sempre un mi che sia minore maggiore sti cazzi contro cazzi è sempre do re mi ok sempre la terza conta il nome della nota se una terza maggiore è due toni di distanza se una terza minore è un tono e mezzo una terza maggiore di do è do mi una terza minore di do e do mi bemolle abbiamo visto l'intervallo di quinta perché per poi fare combo con stasera che abbiamo visto chiaramente le triadi per questo che vi ho fatto l'altra volta l'intervallo di quinta l'intervallo di quinta può essere giusto aumentato o diminuito ad esempio qua anche se non ci interessa com'è più di tanto ma giusto giusto aumentato e diminuito notate quanto è importante l'intervallo di quinta quando diventa stronzetto cambia il nome dell'accordo ragazzi capite cambia il nome dell'accordo cioè l'intervallo quando l'intervallo di quinta va a cambiare il nome dell'accordo poi lo si incontra poco però lo fa lo fa lo fa lo fa quindi possiamo concludere riguardo alla questione cioè può andare avanti più che altro abbiamo affrontato gli accordi che l'ho detto 65 volte l'accordo è un insieme di almeno tre note organizzato per salti di terza abbiamo quattro famiglie la famiglia maggiore la famiglia minore diminuita e aumentata in realtà stasera abbiamo anche parlato ragazzi di diesis e bemolle cerchiamo di capire cioè il diesis fa diventare la nota un po' più acuta di un semitono di mezzo metro e il bemolle la fa diventare un po' più grave di mezzo metro se qualcuno deve scrivere qualcosa lo facciamo ma come si associano le note della scala cromatica con le note di scala con lettere ok ragazzi mi allungo ragazzi mi allungo veramente quattro minuti ok per parlarvi perché no hai ragione così chiudiamo questa cosa qua questa ragazzi ci sta non c'è nulla di male uno dice ma che cazzo stai dicendo cioè non è cosa dico io cosa dicono gli altri allora la scala do re mi fa si do do re mi fa so la si do che in realtà nasce come ut re mi fa so la si do deriva da un verso di molto tempo fa adesso non voglio stare a fare l'accademico dove c'è un verso una canzone diciamo così spero che non mi vengano a fucilare i miei prof dell'epoca anziché vengano ciucciamelo dunque do re mi fa so la si do questa scala derivava da questa canzone che ogni verso cambiava si spostava diventava più acuto generando per assurdo proprio la scala di do ok ut re mi fa so la si do se andiamo a notare ragazzi però solo noi italiani diciamo do re mi fa so la si do cioè è solo una diversa maniera di chiamare le note la maggior parte del mondo chiama le note con un sistema più anglofono ok come noi che diciamo streaming che non vuol dire neanche bene diretta cioè non è che diciamo facciamo dei fasci normalmente non usiamo do re mi fa so la si do non si trova così nel resto del mondo troviamo delle lettere adesso affrontiamo subito questa cosa perché sono veramente euforico quindi è molto molto facile oltretutto vi dico che addirittura i tedeschi usavano la H per dire si bemolle perché adesso vi dico due robe per bacagliare così che almeno appena fici sta roba si limona come pazzi io direi che per capirci bene un pennarello nero sarebbe più piacevole dunque grazie davvero Michele per questa cosa qua andiamo subito sulla lavagnetta perché ho bisogno di questa allora A B C a B C D E F G queste sono le note che troviamo sui nostri sulle nostre dad ok in realtà sono note che trovi ovunque perché la maggior parte del mondo chiama le note così ok attenzione è molto 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 facile semplicemente la A sarebbe l'A e poi di conseguenza quindi se la A è la A B sarà si e C sarà do D sarà re E sarà mi F sarà fa sol cioè questa ragazzi non è altro che l'interpretazione di cosa succede nel mondo nella maggior parte del mondo è così il A B C D F G è uguale ragazzi semplicemente sapete che la A vuol dire l'A il B vuol dire sì il C vuol dire do cioè per capirci la scala di do detto in American English what's again è C G E B è C D E F G A B capite è solo una diversa notazione è solo una diversa condizione di chiamare le note tutto quello che stiamo facendo è assolutamente completamente apportabile a questo vi faccio un esempio le note che compongono il do maggiore che da noi sono do mi sol nel mondo oltre noi ma questo non vuol dire che noi siamo cazzoni C E G capite ora io vi metto qua tra parentesi a fare lo stronzo una H perché in Germania ragazzi la H si usava per dire si bemolle cioè addirittura c'era l'idea del si bemolle normalmente non lo troviamo così troviamo semplicemente B con la B piccola però perché vi ho detto questo perché quando beccate una tipa che è gasata nera come i pazzi ma calda che è lì che dice speriamo me lo dica mamma speriamo me lo dica voi potrete dirgli di Buck Buck che comincia chiaramente una delle sue stupende opere Buck stiamo parlando del primo metallano della storia stiamo parlando del più importante musicista di tutti i tempi un cervello veramente completamente diverso un alieno oltretutto ho lavorato anche con molta gente dedita alla scienza direi che anche quello che ha cominciato gli studi col metronomo così come lo conosciamo con degli inglesi insomma stiamo parlando di una roba mica dei cazzi questo è Buck ragazzi scusate però Buck è semplicemente un alieno caduto in terra e ha detto ci penso io ci penso io perché prima di Buck non esistevano i 12 semitoni cioè esistevano ma cazzate è lui che ha capito come spezzare in due il tono è lui che ha capito il metronomo è lui che ha capito una serie di robe quindi concludiamo dicendo la notazione anglosassone parte dall'A e arriva alla G non è altro che così esposta non cambia assolutamente nulla con tutto il lavoro e la nostra bastarda convinzione che abbiamo e con la nostra maniera di strutturare lo studio dell'armonia in questa maniera così simpatica e dolce modalità baccaglio possiamo dire a quelli che non lo sanno che la H in Germania è si bemolle e Buck cosa ha fatto si la si bemolle capito il maiale lui ha cominciato col suo cognome e lì ciao a fare Elettra Elettra Lamborghini cioè bello coi cori un bello stampo l'ha fatto e magari sti cazzi lui ha parito col suo cognome col suo cognome ragazzi papapara bene detto questo spero di avervi aiutato tutti quanti do 30 secondi a qualsiasi cosa ma che comunque saluterò perché io vorrei mantenere questo nostro incontro abbassa i semitoni adri grazie secondo me da fare soprattutto quando è agitato abbassate i semitoni grande bene giustamente allora ultima novità ultima novità tra domani e dopo domani potrebbe arrivarvi l'aggiornamento che cercheremo di spammarlo ossia di spostare da giovedì a mercoledì il nostro incontro questo perché faccio anche due altri due incontri in stream dove faccio il piccione in una cosa che si chiama va bene si chiama situazione evidente più che altro è un momento dove di suonare davanti a una telecamera tutti i giorni non ne ho voglia dove credo che noi artisti esattamente come ha fatto Messien vi consiglio di andare a dare un'occhiata per sopravvivere dobbiamo fare altre cose chiaramente mai mi pareggere a lui che era nei campi di concentramento Messien ha dovuto inventarsi strumenti suonati per gli altri ufficiali ricostruire strumenti con quello che trovava la storia di Messien è particolare può piacere o non può piacere e andatevelo ad ascoltare soprattutto Messien ma insomma noi artisti dobbiamo secondo me anche un pochettino lavorare tanto in questo periodo non solo sulla musica ma anche sul contesto che abbiamo sociale attorno io lo voglio fare e ne sono gasato quindi finisco questa birra con voi non l'ho finita perché fa schifo è calda peccato una qualità eccelsa stiamo parlando dell'Inns ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti ci aggiorniamo veramente a a breve ok ci vediamo la settimana prossima scrivetemi io vi seguo con tutto come farti un video con tutto toccato isso che posso grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.